L'iniziativa di somministrare dei test sereologici alla cittadinanza in maniera gratuita ci consentirà di avere una mappatura che ci permetterà di avere delle informazioni e per capire quanti cittadini hanno avuto ovviamente il Covid e magari l'hanno avuto in maniera sintomatica oppure quelli che hanno addirittura sviluppato l'immunità attraverso appunto gli IgG. Quindi un'iniziativa importante, devo ringraziare i Cavalieri dell'Ordine di Malta, nella persona di Maurizio Russo che ci ha consentito come responsabili dei Cavalieri di effettuare questa iniziativa nella città che verrà svolta per tre settimane, tre sabato e quindi sabato 10 aprile inizierà la somministrazione con un gazebo che sarà ubicato nella zona di Calegna, nelle vicinanze della scuola Sebastiano Conca. Quindi vedo tutti i cittadini di quella zona ma anche tutti i cittadini di Gaeta arrecarsi lì ovviamente a mantenere i limiti del distanziamento per evitare assembramento e sicuramente un plauso va al mio Assessore Linda Morini che ha portato avanti con capabilità e serietà questa iniziativa.